La situazione meteorologica nel fine settimana vedrà il passaggio di un fronte associato a una piccola depressione in transito dal Tirreno all'Adriatico. In particolare sabato ci aspettiamo cielo in genere coperto su tutta la regione con piogge sparse intermittenti in genere abbondanti. Sarà possibile, specie delle ore centrali della giornata, qualche locale rovescio anche temporalesco con piogge un po' più intense. Soffierà il mattino bora moderata sulla costa, poi nel pomeriggio dovrebbe girare a Scirocco, specialmente verso Lignano. Temperature in lieve aumento dei valori minimi, intorno ai 16 gradi sulla costa, intorno ai 14 sulla pianura. Le massime rimangono stazionare un lieve calo, 20 gradi sulla costa, 39-21 invece sulla pianura. La giornata di domenica vedrà ancora nella prima parte della nuvolosità qualche pioggia residua, forse qualche rovescio specie sulla costa, poi graduale miglioramento a partire da ovest in estensione verso sera tutta la regione. Rimarrà però aria umida nei bassi strati, quindi nella notte tra domenica e lunedì si potrà addensare qualche foschia o locale banco di nebbia, specialmente sulla bassa pianura. Temperature stazionare nelle minime, in lieve aumento i valori massimi che raggiungeranno di nuovo i 22-23 gradi sia in pianura che lungo la costa, venti deboli. Tempo relativamente stabile ma ancora un po' umido nei bassi strati all'inizio della prossima settimana, lunedì in particolare, con temperature che tendono a salire. E dall'osservato mente dell'arpa, Arturo Puccillo vi saluta.